è arrivato il momento del fuck time ah del fuck proprio però fuck time ma non è che è arrivato il momento faq faq domande ma ovviamente prima di far video c'è dove fare domande di conseguenza utilizziamo questo video lasciateci nei commenti le vostre domande e presto arriverà il 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 chiapparella time no assolutamente no risponderemo a tutte le vostre domande selezioneremo ovviamente qualche domanda una decina una quindicina una ventina quelle più particolari diciamo la verità di conseguenza basta che non ci fate sempre le stesse insomma domande zozze no o forse si dipende dalla domanda zozza può essere pure che la leggo quindi se ci volete fare qualche domanda utilizzate i commenti siamo a disposizione ragazzi ci vediamo presto con un bel fuck fuck ciao bella iscriviti al canale